Si chiama Indipendenza il nuovo movimento politico nato da qualche mese per volontà di Gianni Alemanno, già sindaco di Roma e ministro, ma anche uomo storico della destra italiana. Alemanno sta girando l'Italia per presentare le sue idee. Tappa a Crotone in compagnia dei dirigenti locali e regionali. Perché tutti i problemi dell'Italia dipendono da una sudditanza profonda nei confronti dell'Unione Europea e nei confronti della Nato e delle multinazionali. Non c'è un solo problema, dal lavoro allo sviluppo, che non si può affrontare senza prenderci le chiavi di casa. Noi dobbiamo riprenderci le chiavi di casa per riuscire a dare una nuova prospettiva di sviluppo al nostro paese. Troppo con gli americani, troppo con le multinazionali. Troppo con gli americani, troppo con le multinazionali e troppo con Ursula von der Leyen. Adesso il ministro Giorgetti ha ratificato un patto di stabilità europeo che rappresenta e che comporta per l'Italia 15 miliardi di tagli all'anno per 7 anni. 100 miliardi di tagli. Con questo patto di stabilità non si potranno più fare finanziarie di sviluppo per il lavoro o per la giustizia sociale. E questo è un assurdo, anche perché si poteva mettere il veto su quel patto di stabilità e aspettare le elezioni europee e la trattativa sulla Commissione. Invece Giorgetti ha sbragato completamente, io non so quanto Giorgio Menoni sia consapevole di questa realtà, ma ha messo l'Italia in un gravissimo guaio già dalla prossima finanziaria. Lei è stato ministro, è stato sindaco, è stato leader della destra sociale italiana. Autonomia differenziata, premierato, riforma della giustizia. Perché tutto insieme? Allora c'è ovviamente una volontà riformista da questo governo che ha degli esiti completamente diversi. Noi possiamo dire che il premierato rappresenta un passo in avanti rispetto all'attuale situazione perché riduce il rischio di governi tecnici, che sono state la iattura dell'Italia. E quindi da questo punto di vista possiamo giudicare questa riforma non il massimo, perché noi vogliamo le elezioni dirette del Presidente della Repubblica, ma almeno un passo avanti. Invece l'autonomia differenziata è molto pericolosa. Perché è una legge totalmente indeterminata e quindi è giusto che il Mezzogiorno d'Italia si rivolti contro questa legge perché rischia di essere ancora più svantaggiato nel rapporto alle altre regioni. Per quanto riguarda la giustizia è percezione di tutti che c'è bisogno di un riequilibrio rispetto a uno strapotere della magistratura, a una mancanza di controllo della magistratura che sta creando dei problemi. Senza con questo ovviamente fare nessuno sconto né alla criminalità organizzata né a tutte le forme di criminalità dove ovviamente la magistratura e le forze dell'ordine vanno sostenute fino in fondo. A conclusione della sua visita, l'ex sindaco di Roma ha fatto anche un'immersione subacquea nel mare di Le Castella per protestare contro l'impianto offshore eolico che si vorrebbe realizzare nell'area marina protetta a Capo Rizzuto.